una scienza assiomatica deduttiva come la matematica stessa, in qualche modo addirittura identificandola con la geometria. La meccanica si identifica per cartesico con la geometria e quindi automaticamente in un certo senso le si può dare una struttura assiomatico-deduttiva. Questa identificazione passa attraverso, come tutti sanno, l'identificazione della natura da una parte con la materia e dall'altro dell'ulteriore identificazione della materia con la proprietà spaziale, che in cartesio non è più una proprietà della materia, ma diventa l'essenza stessa della materia, cioè la considerazione della natura in termini di quella che lui chiamava res extensa. La natura non sarebbe altro che una sostanza che si estende spazialmente e quindi chiaramente la sua scienza non può che essere la geometria stessa. Al di là però di questa identificazione tra fisica e geometria, Cartesio già in un'opera che poi non pubblicò, che scrisse e terminò intorno al 1633, che si chiamava Le Monde, scrisse quelle che per lui dovevano essere le tre leggi di natura fondamentali che dovevano costituire gli assiomi di questa fisica come una scienza assiomatico-deduttiva. Questa opera poi in cartesio non la pubblicò perché nel frattempo c'era stato il processo a Galileo, in questo testo Cartesio anche se a modo suo con una prospettiva originale si dichiarava a favore del sistema del mondo copernicano e quindi questa opera poi sarà pubblicata solamente postuma dopo la morte di Cartesio nel 1650 e nel 1664. Però queste tre leggi della natura Cartesio le ripropone in un testo che poi invece pubblicherà nel 1644 che si intitola Principia Filosofie. Ecco Newton da un certo punto di vista, se così si potrebbe dire odia Cartesio per molte questioni e non lo segue in tante prospettive, però ne adotta questa idea fondamentale di concepire la fisica e in particolare la meccanica come una scienza assiomatico-deduttiva e quindi chiunque abbia letto i Filosofie Naturalis Principia Matematica sa che il punto di partenza dopo le definizioni è l'enunciazione delle leggi di natura, che sono gli assiomi da cui poi si può ricavare tutta la conoscenza fisica. Ecco, io in questo vedo un allontanamento dalla prospettiva originaria galileiana. E poi anche qui bisogna precisare una cosa in questa eventuale critica di Newton, perché Newton fa questo? Da una parte si rifà Cartesio e pensa che la fisica e la meccanica debbano avere questa generalità, ma poi ha un problema specifico, ineluttabile per lui, che è quello di dare un fondamento al sistema del mondo copernicano come era stato in qualche modo modificato da Keplero. E doveva in un certo senso superare il problema della relatività del moto, perché seppure la relatività del moto era servita come una sorta di leva per scardinare il sistema del mondo aristotelico-tolemaico, facendoci capire che il moto che attribuivamo al resto dell'universo poteva essere non altro che la proiezione del moto della Terra, e dall'altra parte la relatività del moto ci pone in una situazione di incertezza che non è risolvibile, o perlomeno che in parte verrà risolta e solo parzialmente molto dopo. Mi riferisco al fatto che gli esperimenti sul moto di rotazione della Terra intorno al proprio asse ci saranno solo verso fine Settecento per poi nell'Ottocento avere un coronamento nell'esperimento del pendolo di Foucault. Ma in fondo, per quello che io posso sapere, non c'è un esperimento, diciamo anche oggi, che possa essere discriminante sulla questione del moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole. E anzi, questo problema sarà preso in carico da Einstein che nella sua teoria della realità generale darà una versione relativizzata di una teoria della gravitazione nuova, per affrontare proprio il problema della relatività del moto. E allora invece Newton, per risolvere il problema della relatività del moto deve basarsi su qualche cosa di extrafisico. E questa base extrafisica non può che essere data da una parte dalla matematica e quindi per esempio considerare, come lui dice, lo spazio e lo spazio e il tempo matematici anziché lo spazio e il tempo delle misure sperimentali che dal suo punto di vista sono sempre soggette a una relatività della prospettiva da cui vengono effettuate le misure. E quindi questa base extrafisica è una matematica a prioristica non diciamo non legata alle misure fisiche e poi una base teologica perché come sapete questa cosa si chiarisce soprattutto nel dialogo e nella polemica con Leibniz che verrà portata avanti da un suo portavoce che si chiamava Samuel Clark in cui emerge in tutta l'evidenza che lo spazio e il tempo matematico di cui parla Newton non sono altro che lo spazio e il tempo come attributi di Dio che esistono indipendentemente dalla creazione e dalla natura. E quindi quando noi scriviamo le equazioni della meccanica di Newton dobbiamo tener conto di questo fatto che in fondo anche diciamo un concetto di accelerazione che diventa fondamentale nella seconda equazione della meccanica newtoniana dipende nella sua definizione come qualche cosa di assoluto dal considerare lo spazio e il tempo assoluti con questo riferimento teologico e matematico. D'altra parte comprendiamo anche in un certo senso l'imbarazzo in cui si poteva trovare Newton o un fisico di quel tempo e dopo aver scardinato dopo che la fisica moderna l'astronomia col telescopio aveva scardinato il sistema del mondo aristotelico tolemaico non riuscisse a dare un fondamento certo al sistema del mondo copernicano sarebbe stato uno scacco accettare la relatività in quel momento e noi oggi ce ne possiamo rendere conto di questo solamente retrospettivamente diciamo perché siamo a conoscenza del fatto che la fisica poi a un certo punto è cambiata che a un certo punto nel 1905 è apparsa la teoria della relatività speciale alla fine del 15 è apparsa la teoria della relatività generale che accettano la prospettiva della relatività e cambiano la teoria fisica newtoniana sia nel senso delle equazioni della dinamica sia nel senso della teoria della gravitazione. Ora chiaramente se noi ci interroghiamo su questo fatto in maniera come dire non pregiudiziale possiamo comprendere che queste teorie cambiano storicamente e vengono sostituite da altre è solamente perché ci rendiamo conto che le teorie contenevano ancora un residuo extra fisico metafisico che andava eliminato in questa storia e così è tutta la costruzione newtoniana è legata a questa prospettiva che poi come sappiamo sarà sarà superata. Ecco quindi non c'è solo il metodo assiomatico deduttivo ma c'è anche la definizione a priori dei concetti fondamentali della fisica da un punto di vista matematico senza quella prospettiva che noi oggi chiameremmo con il linguaggio contemporaneo la definizione operazionale delle grandezze fisiche no? Newton da questo punto di vista ha completamente una prospettiva diversa non accetta e non accetterebbe questa prospettiva ma non l'accetta neanche nel momento in cui è Leibniz che gliela fa presente che il metodo nuovo della fisica moderna il metodo sperimentale diciamo richiede che almeno in linea di principio le grandezze di cui parliamo debbano essere misurabili e lo spazio assoluto e il tempo assoluto di Newton per Leibniz non costituiscono eh qualche cosa di misurabile come il moto assoluto di cui parla eh Newton ecco ehm c'è una cosa che dobbiamo precisare in tutto questo e che è stata messa in evidenza da altri storici della scienza della fisica in particolare questa cosa è molto chiara eh nella ricostruzione storiografica di questo storico sociologo ed epistemologo della fisica che è stato Thomas Kuhn che ci dice che in effetti ci sono due tradizioni legate a Newton una legata a ai principi a matematica che eh presenta eh diciamo una prospettiva assiomatico deduttiva della fisica mentre eh la prospettiva dell'ottica che Newton pubblica nel 1704 in inglese è invece tutta legata ehm a quella di di pratiche sperimentali certo anche lì Newton parla del sensorium dei però in generale eh l'ottica di Newton si basa su pratiche sperimentali e non ha questa ricostruzione diciamo ehm ulteriore rispetto alla fisica che sta nella matematica e nella teologia eh per quanto riguarda la meccanica allora eh chiaramente quando parliamo delle pratiche sperimentali nella loro origine dobbiamo ricordare varie persone e dobbiamo renderci conto che per quanto noi focalizziamo tutta la nostra attenzione su Galileo c'è tutta una serie di fisici che portano avanti queste pratiche sperimentali e alcuni anche prima di Galileo Galileo fu influenzato molto eh dalle dalle pratiche sperimentali legate all'elettricità e al magnetismo di Gilbert che presentò in un'opera del pubblicata nel 1600 che si intitolava De Magnete e eh poi anche meno conosciuto perché aveva avuto tutta una serie di problemi politici per cui non pubblicò la maggior parte delle sue opere c'è quest'altro questa figura fondamentale della scienza inglese che si chiamava Thomas Herriot Herriot è conosciuto ormai dallo studio dei microfilm che che riproducono le sue opere che sono conservate in Inghilterra come colui che in qualche modo ha puntato il telescopio verso la luna prima di Galileo e che ha visto gli avallamenti e le tortuosità della della luna prima di Galileo solamente che non le ha pubblicate per tutta una serie di motivi politici comunque le pratiche sperimentali meccaniche come vi dicevo prima erano state ormai ehm subordinate a quelle matematiche e teoriche considerate a priori rispetto agli esperimenti questa questa prospettiva eh ci spiega anche alcune cose che accadranno nell'ottocento dove si forma veramente il nucleo di quella che noi oggi chiamiamo la meccanica razionale la meccanica razionale è una meccanica a priori cioè una scienza matematica che permette le generalizzazioni di Lagrange e di Hamilton e eh che eh da un lato sono uno sviluppo eh a partire dalla meccanica di Newton attraverso la mediazione di D'Alembert e Laplace perché D'Alembert e Laplace faranno diciamo così un'opera di secolarizzazione di laicizzazione nei confronti dei fondamenti teologici dell'opera di Newton li mettono completamente da parte e quindi ehm riescono a eh presentare una meccanica razionale senza più eh questi eh fondamenti teologici almeno evidenti è chiaro che i fondamenti teologici restano perché concepire lo spazio assoluto il tempo assoluto eh non possono che essere dei residui di teologia eh e quindi eh da una parte si sono allontanati dalla teologia dall'altra eh ne mantengono eh quelle nozioni fondamentali che servono per l'edificazione di una meccanica razionale e questa filosofia che la meccanica razionale incarna è una filosofia certamente più connotata dalla matematica e più connotata dal meccanicismo che eh una filosofia di tipo eh sperimentale. Nell'ottocento ci saranno molti esponenti della ehm prospettiva meccanicista. I più importanti forse sono questi tre ma non esistono tanti altri eh su cui che varrebbe anche la pena di citare ma solo per dare un'idea di questa prospettiva certamente eh la concezione meccanicistica della natura che attenzione eh non deve far paura è una vera e propria filosofia la fisica ha ancora questi addentellati con la filosofia è una vera e propria filosofia eh che eh viene a scoprirsi sempre di più nel momento in cui ci sono delle prospettive alternative che si creano nell'ottocento e che sono legate appunto allo studio dei fenomeni elettrici magnetici allo studio dei fenomeni termici e quindi si capisce qual è eh lo sfondo teoretico di questa di questo approccio alla fisica prima di tutto la meccanica resta per questi autori il fondamento intoccabile della fisica e secondariamente c'è l'idea della possibilità di di ridurre la natura a a una macchina cioè che i fenomeni artificiali non solo i fenomeni artificiali che noi produciamo con gli esperimenti non solo simulino i fenomeni naturali ma anche ne colgano in qualche modo l'essenza a questo punto dobbiamo fare riferimento per comprendere le nuove scienze che si verranno affermate nell'ottocento eh quanto per esempio eh Kuhn sempre eh in un testo che una raccolta di saggi che si chiama l'attenzione essenziale si ricorda eh che esistono delle scienze che lui chiama baconiane e e che hanno comunque un ruolo fondamentale nella formazione della scienza moderna cioè accanto allo sviluppo concettuale e teoretico della meccanica ci sono delle pratiche sperimentali che riguardano appunto fenomeni elettrici magnetici termini termici che verranno a convergere nella formazione di nuove scienze queste nuove scienze le chiama baconiane perché eh Francis Bacon già nel 1620 aveva scritto ehm un'opera che si chiamava Novum Organum nuovo organo che ehm delinea il metodo di quello che per lui è la scienza moderna il metodo della scienza moderna per Bacone è il metodo induttivo perché il cuore della scienza moderna sono le pratiche sperimentali e le pratiche sperimentali possono arrivare eh diciamo a una conoscenza della natura attraverso l'induzione tutto questo si contrappone Bacone ha una grande ambizione all'ambizione eh di creare una nuova caratteristica del sapere moderno che si contrappone al sapere antico il sapere degli antichi è in qualche modo stigmatizzato dall'opera dell'organon appunto di Aristotele tutta una serie di opere che riguardano la logica e la struttura delle teorie e che era si eh vedeva la scienza soprattutto in termini assiomatico-deduttivi diremmo con il linguaggio moderno. In fondo eh anche se questo non viene ricordato spesso eh la geometria di Euclide e gli elementi di Euclide sono eh diciamo eh l'esempio paradigmatico dell'idea di scienza che aveva delineato eh Aristotele. Una scienza razionale impostata su un metodo assiomatico-deduttivo e quindi Euclide non fa altro che riprendere le conoscenze matematiche portate avanti dagli autori del passato come i Pitagorici e anche Platone e gli dà questo nuovo assetto assiomatico-deduttivo ehm riprendendo questa suggestione eh e questa idea di scienza ehm che era portata avanti dall'organon aristotelico. Allora Bacone eh dice che in qualche modo è ora di farla finita con questa prospettiva eh questa prospettiva è quella di un sapere sterile puramente razionale e eh invece la la scienza nuova la la nuova filosofia come veniva chiamata allora eh deve avere tutta una serie eh di connotazioni di tipo pratico sia eh esperimentali no? Sia nella nella formazione delle sue conoscenze che non possono essere eh proposte in termini assiomatici eh sia anche dal punto di vista eh degli effetti cioè la scienza moderna si qualifica come feconda rispetto eh alla sterilità del sapere eh degli antichi proprio perché eh avrebbe questa connotazione pratica che gli permette di essere utile agli uomini no? In fondo la pratica sperimentale in che cosa consisteva? Eh nell'uso eh appunto della meccanica come riscontro pratico eh su cui eh fondare la fisica eh la fisica allora c'è una metodologia o una nuova logica che deve caratterizzare la fisica moderna e questa eh metodologia per Bagone non è quella che poi presenterà Cartesio mh è una metodologia induttiva e le pratiche matematica e le pratiche teoriche devono essere subordinate alle pratiche sperimentali le leggi matematiche sono frutto di una induzione e quindi eh in qualche modo ehm devono avere eh un loro senso eh come dire nelle pratiche sperimentali non sono altro che trascrizioni simboliche di pratiche sperimentali trascrizioni simboliche sintetiche scritture veloci tachigrafie delle pratiche sperimentali da questo punto di vista è molto interessante la conclusione a cui arriva Pascal che è un rappresentante diciamo fervente di questa prospettiva sperimentale come cuore della fisica e che si oppone anche in questo ma in tutto in generale a Cartesio secondo cui eh diciamo le leggi non vanno viste come generalizzazioni a possibili ambiti nuovi di cui noi non abbiamo fatto sperimentazione ma le leggi rappresentano una sintesi degli esperimenti che noi abbiamo fatto come tali queste leggi saranno sempre vere perché quelli si riferiscono solo a quegli esperimenti fatti e non a ciò che seguirà e chiaramente eh questa interpretazione delle leggi eh fisiche fa capire che quella caratteristica che era tipica nella ricostruzione epistemologica che noi ne facciamo della scienza moderna cioè la capacità non solo di spiegare i fenomeni ma di predirli questa capacità predittiva della della scienza moderna non sta nel suo metodo matematico ma sta nel metodo sperimentale e nel metodo induttivo cioè quando si predice ci si lega a un metodo induttivo per cui eh diciamo da quello che noi sappiamo dagli da quello che noi sappiamo dagli esperimenti già fatti possiamo sapere che cosa accadrà in un'altra sperimentazione non c'è una capacità predittiva propria della matematica in astratto questo tante volte è stato esaltato non me ne vorranno i colleghi matematici come eh diciamo la bellezza e l'importanza del metodo matematico nella fisica no ma la matematica è un erede in questo della sperimentazione la legge matematica predice solo sulla base delle pratiche sperimentali che sintetizzano altrimenti sarebbe una pura astrazione e quindi quella che delinea bacone è una nuova agnoseologia un modo di conoscere nuovo che si basa sulla prassi sperimentale la matematica un ruolo secondario e anche una nuova se vogliamo teoria della realtà o come si dice in termini filosofici espliciti una nuova ontologia per cui noi diciamo che è reale dal punto di vista della fisica solo ciò è sottoponibile a sperimentazione e a misurazione e questa è la nuova prospettiva filosofica della fisica moderna secondo bacone ecco perché tutta questa premessa che ci ha fatto tornare eh nel seicento perché secondo me eh diciamo questo problema riesplode questo problema del rapporto gerarchico fra le varie pratiche che caratterizzano la fisica moderna cioè le pratiche sperimentali la pratica simbolico matematica e la pratica teoretico concettuale questo problema riesplode con lo svilupparsi delle pratiche sperimentali elettriche magnetiche e termiche quindi eh la fisica in queste in questi ambiti fenomenici proprio perché è ancora alle sue origini si presenta in tutta la sua eh connotazione essenziale di tipo sperimentale e proprio per questo metterà diciamo in difficoltà il sapere meccanico precedente perché c'è tutta una mole di conoscenze sperimentali che si accumula in queste nuove pratiche e che metteranno in discussione eh quello che ormai sembrava qualche cosa di assoluto perché anche il poeta Alexander Pope dice che Newton ormai ha trovato le leggi di Dio Dio ha dato questa possibilità a Newton e a noi non resta altro che poter fare poco e niente a noi di quel tempo e eventualmente a quelli successivi e invece eh questa questa cosa che sembrava conclusa cioè per cui l'opera di Newton sembrava definitiva viene messa in discussione dallo sviluppo di queste pratiche sperimentali e quindi eh capite che qui c'è un nodo cruciale della fisica dell'ottocento perché questo svilupparsi di pratiche sperimentali negli ambiti dei fenomeni che coinvolgono l'elettricità il magnetismo e il calore mette in discussione il sapere fisico precedente che era essenzialmente meccanico e che oramai si presentava diciamo se lo vogliamo dire in tutti in parole povere come qualche cosa che andava al di là della stessa fisica cioè era qualche cosa che era sconfinata nella metafisica proprio per quelle basi teologiche su cui aveva fatto riferimento Newton allora quello che emerge nell'ottocento è quella che io chiamo eh una crisi dei fondamenti della fisica lo dico chiaramente sulla base di una prospettiva di analogia a quanto da molto tempo si è discusso per quanto riguarda la storia della matematica no per cui l'ottocento è noto eh come eh quell'epoca che ha portato la crisi dei fondamenti della matematica a partire dai fondamenti della geometria cioè appena negli anni venti nel venticinque eh vengono pubblicate le prime opere di geometrie e non euclidee da parte di Bolia e Lobachevsky eh avviene eh la crisi dei fondamenti della geometria chiaramente questo di per sé porterebbe a una crisi dei fondamenti della fisica perché eh perché la fisica eh esistente la meccanica di Galilei e Newton eh aveva matematizzato il moto e in termini della geometria euclidea e quindi se c'era un problema sulla geometria euclidea eh questo problema si riverberava sulla fisica e questo quindi sicuramente però qui sorge una crisi ancora più profonda dei fondamenti della fisica che solo in parte è legata alla questione della matematica o della quale geometria o quale matematica si usasse ma proprio sul metodo perché in un certo senso quello che accade e che eh la fisica oramai si delinea non più semplicemente in termini di un sapere che noi chiamiamo meccanica ma ci sono nuovi corpi disciplinari della fisica che sono legati appunto alle pratiche sperimentali elettriche magnetiche e termiche che a poco a poco da pratiche sperimentali si trasformano in quelle che io chiamo pratiche discorsive cioè in pratiche concettuali teoretiche cioè vengono concettualizzati questi esperimenti a partire da una loro matematizzazione cioè da una loro traduzione in pratiche simboliche matematiche e queste pratiche sono autonome dalla eh dalla meccanica perché appunto si riferiscono a un ambito di fenomeni con cui la meccanica non si era ehm confrontata queste pratiche sperimentali si costituiscono come un nuovo corpo disciplinare superando la soglia della matematizzazione della matematizzazione cioè a poco a poco eh si dà anche una rappresentazione matematica di questi fenomeni che vengono ad essere indagati sperimentalmente e quindi acquisiscono un peso all'interno eh della fisica dell'ottocento se vogliamo usare un termine ancora più tecnico nel senso che va bene io qui questo termine lo riprendo da da uno storico che si è occupato di altro non delle scienze naturali ma si è occupato delle scienze umane che Michel Foucault che dà per me questa rappresentazione interessante del sapere in termini di pratiche quindi anche la teoria è una pratica anche la matematica è una pratica cioè un'attività umana no? E lui parla del che si costituiscono in scienze quando superano questa soglia di epistemologizzazione perché il termine episteme eh da punto di vista del significato greco significa scienza no? Quindi queste queste pratiche sperimentali matematizzandosi diventano vere e proprie eh pratiche scientifiche diventano scienze a tutti gli effetti ecco questo processo storico eh diciamo è lungo e arriva quasi fino alla fine dell'ottocento diciamo la formazione di quel corpo disciplinare che noi chiamiamo termodinamica in qualche modo lo possiamo vedere come concluso intorno al 1865 con i lavori di Clausius con la riformulazione di Clausius dei principi di quelli che verranno chiamati appunto principi o leggi della termodinamica e nel 1873 ci sarà la pubblicazione del treatise di James Clerk Maxwell on electricity and magnetism e quindi eh diciamo l'elettromagnetismo come una teoria che unifica fenomeni elettrici fenomeni magnetici e anche fenomeni ottici per quanto non ce ne sia traccia nel nome eh insomma eh si conclude arriva a compimento solamente con la pubblicazione del trattato di Maxwell allora in che cosa consiste questa crisi dei fondamenti della fisica la fisica non è più solo meccanica ma ha due aspetti appunto importanti da una parte c'è la fisica sperimentale che torna per così dire a dire la sua a non essere un'ancella della fisica matematica e della fisica teorica e dall'altra c'è da capire quali tra queste discipline che oramai formano la fisica cioè la meccanica l'elettromagnetismo e la termodinamica devono eh quale di queste deve assumere il ruolo di fondamento della fisica cioè in che relazione stanno queste tre sottodiscipline fisiche prima viene la meccanica e sulla meccanica sul fondamento della meccanica si elaborano la termodinamica e l'elettromagnetismo o viceversa c'è una priorità della fisica elettromagnetica dell'elettromagnetismo o della fisica termodinamica sulla meccanica con l'aggiunta che in questo caso eh c'è una connotazione con cui queste discipline ancora si presentano fortemente sperimentale perché 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 in un certo senso diciamo sono sorte in un contesto che non era mai non era più dominato dalla teologia come la fine del seicento in cui eh operava Newton e quindi queste pratiche si erano si erano matematizzate e avevano costituito delle teorie ma senza più rimandi metafisici e va bene e questa questa crisi dei fondamenti come dicevo prima da una parte non è stata quasi mai tematizzata questa crisi della fisica però questo non toglie che sussista e che sia stata percepita come tale perché portò a un conflitto un conflitto fra i fautori del meccanicismo i fautori di una concezione termodinamica della natura come vedremo ai fautori di una concezione elettromagnetica della natura ma al di là di tutto questo scontro fra le varie discipline fisiche si mette in crisi di nuovo il metodo assiomatico deduttivo e questo progetto che è legato a questo della Matesis Universalis cioè di poter creare una fisica moderna tutta in termini di una scienza assiomatico deduttiva ecco dobbiamo pensare che l'assiomatizzazione per esempio della termodinamica almeno in un senso formale compiuto si avrà solo a inizio novecento ed è legata all'opera di questo Costantin Karateodori che presenta in una forma piuttosto astratta i principi della termodinamica e un'assiomatizzazione dell'elettromagnetismo forse non c'è mai stata io ho visto così per curiosità anche la produzione contemporanea cioè qualcuno adesso in qualche articolo presenta una formulazione assiomatica dell'elettromagnetismo ma voi sapete anche per esperienza che l'elettromagnetismo sfugge a una presentazione assiomatica ricordo la fatica di studiare il testo della Maldi da teorico e amante della matematica perché l'elettromagnetismo si presentava come una serie infinita di dati da ricordare di esperimenti di cui tenere conto qualcuno dice seguendo quello che ha detto Hertz ma per altri motivi che l'elettromagnetismo sono le equazioni di Maxwell però le equazioni di Maxwell non hanno un vero ruolo di assiomi della teoria da cui poter ricavare tutte le conoscenze sperimentali che sono state accumulate dalle pratiche sperimentali e quindi in questo senso dico che c'è una crisi nel punto di vista del punto di vista assiomatico-deduttivo ma questo lo dico anche in relazione a uno sguardo retrospettivo che per me sorge dal sapere che cosa è successo dopo nel novecento con la fisica della relatività e con la fisica quantistica dove questa prospettiva diciamo assiomatico-deduttiva per certi versi almeno a mio avviso si può dire che è stata messa ulteriormente in crisi ecco chiaramente ci sono iniziamo possiamo iniziare anche se ormai siamo quasi alla fine della discussione di oggi non so se Antonio mi vuole dare un tempo adesso ci sono già delle domande non so se tu preferisci rispondere prima a queste domande ma forse sì perché poi qui entriamo in qualche dettaglio in più sulla termodinamica che in maniera diciamo sempre schematica e sintetica cercherò di presentare in quegli aspetti che a me sembrano più significativi quindi forse su questa parte generale vale la pena vale la pena sentire purtroppo c'è stata una difficoltà tecnica ormai si affliggono queste nostre conversazioni questa volta si è trattato del funzionamento della chat cioè che non abbiamo inteso come mai non è possibile a coloro che sono online a intervenire sulla chat però le domande sono intervenute lo stesso attraverso l'altro strumento che abbiamo disponibile in Meet cioè domande e risposte quindi adesso dirò innanzitutto due domande sono state fatte da Tullio non vorrei sbagliare il cognome Eb Bisher di Roma e vado a leggerle allora la prima è questa nell'ottocento vi è stato il definitivo passaggio dal chiamare i filosofi naturali fisici nel senso moderno è giusto? questa è la prima se vuoi le leggo leggo anche no forse no forse è ancora più tardo cioè questo questo termine se se ha avuto diciamo una sua definitiva sostituzione verso fine ottocento inizio novecento ancora lord kelvin e tutti questi parlavano di filosofia naturale quindi più nel tardo ottocento sì però non è una questione essenziale dal mio punto di vista è una questione nominale per cui c'è stato sempre più uno scollamento chiaramente tra la fisica moderna e la filosofia per tutta una serie di motivi compreso il fatto che si tratta di un sapere sempre più specialistico che i filosofi non possono più controllare se non hanno una formazione come diceva già Galileo matematica per comprendere la natura no? no diamo la parola quindi al professor Pizzigalli che può attivare il suo microfono e qui in presenza per la sua domanda io volevo chiedere qualche parola in più sul fatto che le equazioni di Maxwell non sono una assiomatizzazione dell'elettromagnetismo non sono un'assiomatizzazione nel senso che in qualche modo costituiscono diciamo per certi versi una una sintesi di conoscenze che derivano soprattutto in questo caso dagli esperimenti di Faraday a cui Maxwell attinge pienamente però diciamo non nascono in questo modo e non costituiscono una vera assiomatizzazione formale qualcuno li presenta come assiomi dell'elettromagnetismo già il professore di fisica 1 di cui ho seguito le lezioni insomma nei suoi testi anche di fisica 2 parte dall'equazione di Maxwell come una sorta di fondamento assiomatico dell'elettromagnetismo ma ci sono tutta una serie di cose che rimandano a questioni di carattere sperimentale cioè in fondo Newton poteva presentare la sua come una assiomatizzazione perché aveva definito prima tutte le grandezze fisiche che intervenivano nelle leggi e nei fenomeni da un punto di vista matematico e come come fai a a presentare da un punto di vista puramente matematico che non faccia riferimento alle pratiche sperimentali che cos'è una carica elettrica che cos'è una corrente che compare nelle formule che cos'è un campo cioè sono tutti concetti che a noi sembrano piuttosto difficili da accettare in assoluto perché la sintesi di Maxwell in qualche modo sembra sembra avere diciamo una caratterizzazione matematica estremamente complessa ma comunque non sono concetti diciamo fondamentali da poter definire primariamente senza le pratiche sperimentali quindi per esempio le assomatizzazioni si vede in confronto con le assomatizzazioni che ci sono adesso che in qualche modo tengono presente o il concetto di carica o il concetto di campo prima dell'equazione Maxwell se no le equazioni di Maxwell restano qualche cosa di puramente formale che non ha la possibilità di essere collegato ai fenomeni fisici effettivi e quindi le assomatizzazioni di adesso passano attraverso innanzitutto una fase definitoria precedente dei termini che compaiono nell'equazione dell'elettromagnetismo di carattere però sperimentale e quindi già c'è c'è la presenza di elementi sperimentali fondamentali e e poi appunto non assumendo direttamente l'equazione di Maxwell come assiomi va bene iniziamo allora il discorso sulla termodinamica d'altra parte è anche lungo quindi iniziarlo anche se ti porti avanti diciamo anche in questi dieci minuti diciamo può può essere utile no? E allora qui vedete soltanto un elenco di nomi no? E qualche data in qualche caso che è stata rilevante qualche data che è stata rilevante per la formulazione per esempio di quelli che chiamiamo principi o leggi della termodinamica in particolare Sadi Carnot soprattutto per quello che chiamiamo secondo principio anche se poi la sua opera fu scoperta successivamente insomma le sue conclusioni sono del 1824 e Mayer invece per quanto riguarda la questione dell'equivalenza fra calore e lavoro meccanico nel 42 insomma Mayer è uno di quei personaggi che concorrono a quella che chiamiamo scoperta del primo principio della termodinamica cioè del principio di una conservazione generalizzata dell'energia anche se Gein e Holzman sono legati a questo mentre l'opera di Fourier è in qualche modo decisiva per una questione che appunto quando lui scrive la teoria analitica del calore innanzitutto inizia una prima matematizzazione in senso corposo e forte delle pratiche sperimentali termiche e secondariamente in quest'opera del 1822 è presentata un'equazione che riguarda la questione della conduzione del calore e ecco andiamo un attimo avanti che ha questa forma che schematicamente può essere riproposta in questi termini cioè si tratta di analizzare matematicamente il fenomeno della conduzione del calore in un corpo solido dove si dia un ingrediente una differenza di temperatura fra le parti di questo corpo ed è la prima equazione a porre in maniera dirompente la questione del tempo e della sua irreversibilità questo ha un occhio diciamo che ricordi contemporaneamente l'equazione della meccanica è evidente dal fatto che in questa equazione compare una derivata prima parziale rispetto al tempo della temperatura e questo fatto che si differenzia dalla seconda legge di Newton del moto per cui lì entra in gioco una derivata seconda rispetto al tempo nel termine dell'accelerazione fa la differenza e fa sì che questa equazione non possa essere considerata diciamo invariante rispetto a quella operazione di inversione temporale che associamo ormai a un operatore che chiamiamo di time reversal no? e quindi diciamo già nel 1822 con Fourier emerge questa caratteristica fondamentale della termodinamica e che la rende in un certo senso irriducibile almeno dal mio punto di vista alla prospettiva della meccanica no? cioè l'irreversibilità temporale dei fenomeni che coinvolgono il calore questa è una cosa di grande rilevanza e gli altri vi dicevo gli altri nomi qui sono legati al primo e al secondo principio della termodinamica da un punto di vista storico hanno svolto un ruolo e questi nomi a questi nomi vanno aggiunti altri ovviamente più o meno conosciuti che in questo caso sono tutti legati a parte il ranking ma anche il ranking al primo principio della termodinamica alla generalizzazione della conservazione dell'energia e poi anche anche questi altri nomi hanno svolto un ruolo fondamentale Helmholtz nel 1847 pubblica lungo saggio sulla conservazione della forza perché ancora si parlava in termini di forza siamo noi che poi abbiamo introdotto questa nuova terminologia per cui distinguiamo l'energia dalla forza perché l'energia per la prima volta compariva nella fisica di Leibniz e Leibniz aveva usato il termine di forza a partire dall'idea di vis viva di forza viva e poi sicuramente Thomson nel 51 e poi Clausius che riformula come sappiamo i principi della termodinamica in termini per così dire cosmologici perché li riferisce a tutto l'universo ecco questi sono solo alcuni di quelli che hanno contribuito alla matematizzazione di queste pratiche sperimentali in delle leggi e che per questo vanno sicuramente ricordati forse più di altri dopodiché l'altra cosa che possiamo dire per completare la questione che abbiamo accennato sulle concezioni della natura cioè la termodinamica in effetti porterà anche a due concezioni della natura distinte non opposte ma comunque distinte una che si concentra sul concetto di energia e che vede nell'energia il concetto fondamentale di tutta la fisica il concetto unificatore di tutta la fisica e quindi per questo viene chiamata energetista e i rappresentanti più importanti sono questi due Georg Helm e Willem Ostwald mentre la concezione termodinamica la filosofia termodinamica della natura che ha i suoi rappresentanti più importanti in questi tre giganti della storia della scienza che sono Ernest Mack Max Planck e Pierre Duam è una concezione una filosofia più articolata perché si basa su tutta la termodinamica per ripensare la natura e in particolare quindi non solo sull'energia ma soprattutto sulla questione della irreversibilità temporale legata alla seconda legge della termodinamica e in particolare quindi a quel termine che introdurrà Clausius nel 1865 che è il termine di entropia detto questo detto questo poi che cosa sia in dettaglio questa filosofia in che senso sia una filosofia questa concezione termodinamica della natura sarà più chiaro andando avanti